Almeno un centinaio di persone in un paio di giorni hanno chiesto la prima dose di vaccino. Le nuove regole per il Green Pass, definito rafforzato, cominciano a produrre gli effetti sperati e al cardarelli nel fine settimana. Le prime dosi hanno subito un'impennata. Una media di 30 persone al giorno chiede per la prima volta la somministrazione del vaccino. La quarta ondata e la variante Omicron, insieme alle restrizioni sul passaporto verde, hanno indotto molti Novax a recedere dal loro arroccamento. Peraltro 9 dei 12 ricoverati nell'area medica dell'ospedale di Campobasso non sono vaccinati. Siamo ormai entrati nel clima natalizio e con le feste che arrivano anche in provincia saranno potenziati i controlli sul possesso del Green Pass. E' quanto deciso al termine della scorsa riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Francesco Antonio Cappetta. Hanno partecipato i vertici locali di tutte le forze dell'Ordine, l'assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante, il sindaco Roberto Gravina e il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano. Nel dettaglio, hanno fatto sapere dalla prefettura, saranno controllati con rigore gli esercizi pubblici, le attività di intrattenimento e sportive, oltre all'intero sistema del trasporto pubblico regionale e locale. Sempre la prefettura ha sottolineato che il rafforzamento dei controlli sul Green Pass ha l'obiettivo di assicurare che le prossime feste trascorrano in un clima di serenità e sicurezza. Prima di riunire il Comitato di Sicurezza, i prefetti hanno avuto un colloquio in videoconferenza con la ministra dell'Interno Lamorgese, con i prefetti di tutti i capoluoghi di regione, proprio per organizzare il rafforzamento dei controlli sul Green Pass.